Silvi e Ulcini sono da oggi gemellate. Un patto tra il comune della costa terramana e quello montenegrino che unisce le due sponde dell'Adriatico. I rapporti proseguono fin dalla seconda metà del XV secolo, quando a seguito dell'invasione saracena molti dulcignotti, Dulcigno è il nome italiano della città d'Almata, migrarono verso l'Abruzzo. La storia è ciò che ci unisce. Molti cittadini di Ulcini sono emigrati tre o quattrocento anni fa e hanno popolato questa parte della costa adriatica e i bei posti che avete. E ora stiamo connettendo le due città per lo sviluppo delle nostre radici e di nuovi rapporti tra due paesi, due città e le rispettive genti. Quello con il comune montenegrino di circa 20.000 abitanti è il primo della storia di Silvi. Non guarda solo al passato ma anche al futuro. Instaureremo rapporti socio-economici, ha commentato il sindaco Scordella. Con il sindaco di Ulcini abbiamo già intavolato un discorso che non va soltanto con una questione promozionale dei territori ma anche un scambio commerciale con le gastronomie perché ricordiamo che la città di Ulcini comunque è una nostra gemella, anche loro produttori di vino e di olio, hanno tantissime attrattività anche a livello turistico e dunque vorremmo instaurare con loro uno scambio non solo sociale ma anche di tipo economico.